Mi chiamo Ignazio Silvestri, ho 45 anni e sono di Vico. Io sono uno degli organizzatori del trono di San Valentino. Me ne occupo da circa 15-16 anni. Per me, oltre che una tradizione, è anche una devozione al Santo Patrono del nostro Paese, protettore di Vico del Gargano. Cos'è per te Vico? Oltre ad essere il Paese mio Natale, è anche il Paese del mio cuore. Vi aspettiamo a Vico del Gargano dall'11 al 14. Grazie a tutti.